E questo è martedì 7 di gennaio. Il padre di Jenny intanto si dice indifferente alla lettera inviata dall'imputato. Nessun pentimento può riportare in figlia in vita suo figlio. I carabinieri della compagnia di Giuliano in Campania e del lucro investigativo di Castello di Cisterna hanno catturato e ricercato Bruno Mascitelli, 53 anni già noto alle forze dell'ordine, ritenuto regente dell'omonimo gruppo camborristico operante tra Napoli e il nord-est della provincia. L'uomo era sfuggito lo scorso maggio ad un ordine di carcerazione emesso dalla procura generale. Dovrà espiare 7 anni, 4 visi e 15 giorni di reclusione per detenzione di stupefacenti ai fini di spazio. Quattro cittadini algerini sono stati arrestati all'aeroporto di Capodichino con l'accusa in concorso tra loro di furto aggravato e continuato. L'arresto è stato eseguito dagli agenti dell'ufficio di polizia di frontiera. Si tratta di persone tra i 22 e i 48 anni con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. Nel corso di controlli di rutini i poliziotti hanno raccolto denunce riguardo una panna di borseggiatori che si appropriata di zaini e borselle contenenti smartphone, tablet e portafogli, solitamente approfittando dei momenti in cui il terminale era maggiormente affollato, avvalendosi delle immagini di videosorveglianza. I poliziotti hanno accertato che il gruppo si era reso responsabile di altri furti, sempre fingendosi passeggeri e stazionando nei pressi di barra. Controlli vuoti, utili poi per nascondere quanto rubato. Una giovane in vacanza a secolo aveva raccontato di essere stata avvicinata e stuprata da tre uomini sui 25 anni che le avevano spinta in un apportone in via San Fasquale a Chiaia, abusata di lei. La violenza, secondo il racconto della ragazza, era avvenuta il 25 luglio, vittima ma dopo due mesi di indagini la polizia ha accertato che in quel landrone non c'era stato nessun tipo di tentativo di stupro o violenza. La ragazza è ora indagata per simulazione di reato. Aveva raccontato di essere stata aiutata da un giovane giunto in suo soccorso dall'analisi a terra delle forze dell'ordine e dalle videocamere di sorveglianza non si nota alcun movimento strano dinanzi all'androne dell'edificio. Decisi fa un messaggio di ringraziamento della giovane alla proprietaria del B&B il giorno dopo l'accaduto dove scriveva che aveva dimenticato di buttare l'immondizia e ha contraddetto se stessa visto che ha asserito alla polizia che la violenza era stata consumata dopo che era andata a buttare la spazzatura negli appositi cassonetti sistemati in strada. E la polizia municipale di Napoli ha sequestrato un'area di circa 55.000 metri quadrati che si trova in via Terracina nel quartiere di Florigrotta nella quale si stava realizzando opere rile senza alcuna autorizzazione. L'area che si trova nelle vicinanze dell'ospedale San Paolo è stata concessa in fitto ad un'associazione sportiva direttantistica al termine dei controlli eseguiti dagli agenti dell'unità operativa tutela edilizia sono risultati abusivi in piatto fognario e vialetti interni sigilli apposti anche per alcuni fabbricati rurali trasformati in quattro unità abitative di varie quadrature. Per agevolare la fuga di Univoriano poco prima fermato dagli agenti un gruppo di cornazionali ha accertiato la polizia. È successo a Napoli durante i controlli dei militari che effettuano tra piazza Garibaldi e portano l'ala grazie all'aiuto di altre pattuglie inviate sul posto dalla centrale operativa il fuggitivo e gli altri più immigrati sono stati bloccati. Si annuncia per lunedì 2 ottobre una giornata difficile sotto il profilo della mobilità a Napoli. L'ANM ha infatti reso noto che le organizzazioni sindacali tutte le sigle rappresentative hanno proclamato uno sciopero di 24 ore. Si fermeranno quindi autobus metropolitane e funipolari. Assicurate sono solo le corse nelle cosiddette fasce di garanzia. Ed era questa l'ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Come di consueto prossimo appuntamento. Tra un'ora circa più tardi. Adesso stacco.